Facciamo il punto della situazione del calcio mercato della Juventus dopo Ferragosto, a due settimane circa, un po' meno, di due settimane dalla chiusura del calcio mercato. In questo momento siamo in un periodo di stallo, anche se devo dire che la Juventus quest'anno aveva iniziato molto bene. Aggiunto lì aveva dato una linearità al calcio mercato della Juventus che era da tempo che non si vedeva, aveva delineato immediatamente quelli che sarebbero stati gli esuberi, quelli che sarebbero stati potenzialmente vendibili. E dall'altra parte aveva dato, diciamo, le consegne per valutare quelli che sarebbero stati giocatori in ingresso. Per il primo periodo è andato anche molto bene, sono arrivati giocatori molto interessanti come Dagas, Wisturam e De Gregorio, eccetera. Dall'altra parte abbiamo visto che sono stati ceduti diversi giocatori, anche che sembrava quasi impossibile cedere. Adesso invece siamo in un periodo di stallo, anche perché le situazioni, ovviamente quelle più semplici, sono state decisamente gestite bene, molto velocemente. Quelle un po' più complesse o i giocatori con stipendi più alti o onerosi, chiaramente sono più complicati da gestire, come Arthur, McKennie, Chiesa e Shesley. Shesley fra l'altro da ieri, penso, o l'altro ieri, ha comunque trovato un accordo con la Juventus per un buon uscita da 4 milioni di euro. Quindi il giocatore non è più della Juventus, è un free agent, può cercarsi un'altra squadra, sempre che la cerchi, perché ha 34 anni il portiere, che tutto sommato ha avuto una buona carriera con la Juventus, è stata una persona molto corretta, una brava persona, una persona dirigente, si è sempre allenato, non ha mai fatto polemica. Quindi salutiamo Shesley con un po' di nostalgia, però, insomma, era anche giusto che, dato lo stipendio oneroso, dato che il gioco di Thiago Motta è sicuramente diverso e ha bisogno di portieri che gestiscono la palla con i piedi, Shesley sì, con i piedi ci stava anche, era anche capace, ma non era certamente il suo forte. Quindi, insomma, era diventato un esubero, purtroppo non siamo riusciti a cederlo agli arabi, che stranamente avevano scelto di prendere un portiere, di solito non comprano portieri, perché loro difendere non è la loro passione, cioè, il calcio arabo è, più golf facciamo, più siamo contenti, anche se prendiamo sette golf, chi se ne frega l'importante è farne otto. E quindi era già una roba strana che gli arabi si interessassero al portiere, ma poi alla fine Shesley probabilmente ha deciso che sta meglio non fare nulla, o comunque stare a Torino che andare in Arabia, anche se prendeva qualche milioncino di euro in più, probabilmente ha pensato bene che i soldi ce li ha, non c'è bisogno di ulteriore cash, e quindi se l'è presa comoda, e in effetti poi ha trovato l'accordo con 4 milioni di euro, che non sono poi bruscoline, perché sono tutto sommato da 6,5 a 4, non è che cambi poi più di tanto per uno che ce li ha, ovviamente, e quindi, insomma, lo salutiamo e buona lì. Però abbiamo ancora dei casi aperti, come con Paniners, che l'Atlanta sembra che non voglia farci uno sconto neanche per sbaglio, sono su 60 milioni e adesso si sta contrattando, anche se credo che la situazione con Paniners si sia complicata anche per l'Atlanta, perché il giocatore non è stato convocato nella Supercoppa Europea, non ha giocato, non è stato convocato, non è convocato probabilmente, non sarà convocato neanche per la prossima partita dell'Atlanta in campionato, che fra l'altro inizia sabato, quindi insomma non ha neanche troppo tempo per gestirla, e quindi, insomma, anche lì si sta lavorando su un contratto che, insomma, diventa veramente complesso. Abbiamo McKennie che invece sembra sia sbloccata la faccenda con la Fiorentina, la Fiorentina aveva fatto subito un'offerta, il giocatore l'aveva rifiutata, probabilmente l'americano, sentendo che non rientra più nei piani della Juventus, ci ha ripensato, ha detto, aspetta un attimo, che se devo stare un anno in tribuna è meglio andare a giocare a Firenze, che tutto sommato è una bella piazza, che può anche magari cercare risultati importanti, e quindi il giocatore sembra portato verso Firenze, anche se poi questo non lo sappiamo, perché il giocatore è strano davvero, sappiamo che abbia già rifiutato un paio di occasioni molto interessanti, come l'Arsenal, dicendo che l'Arsenal non era una squadra che gli interessava, non so che valori abbia l'americano, comunque va bene, siamo messi così. Abbiamo Calulu, che il Milan ci vuole praticamente regalare, perché loro non gli interessa più, per loro è solo un peso, ce lo vogliono dare a tutti i costi, ci hanno fatto pure lo sconto sullo sconto, e niente, in questo caso le due società sono d'accordo, stranamente, c'è un accordo sulla cessione, c'è un accordo in linea teorica anche per il prezzo dei bonus e quant'altro, però il giocatore Calulu, che non è sicuramente il fenomeno della questione, ha deciso che ci deve pensare. Non so a cosa deve pensare, perché comunque a Milano, gli hanno già detto che se sta lì sarà anche lui un panchinaro praticamente inamovibile, boh, non lo so, se devi stare a Milano a fare il panchinaro, andare a Torino a giocare nella Juventus, ma forse io me la giocherai sempre comunque con la Juventus, a parte che sono tifoso, però, boh, vabbè, contento lui. Poi abbiamo un'altra questione abbastanza spinosa, ma questo ne avevamo già parlato, di Chiesa, che non ha ancora trovato un accordo con la Juventus, non ha trovato un accordo con un'altra squadra, ha rifiuto tutto quello che gli viene proposto, sta diventando anche un po' in susa la situazione, la Juventus ha iniziato la linea dura, che fra l'altro è la prima volta che vediamo danni, perché comunque la Juventus, gestita da Agnelli, era sempre molto morbida verso i giocatori, anzi troppo generosa, come i Cesni che gli ha dato 6 milioni e mezzo, e quindi sono giocatori che, ci siamo come Arthur, facciamo un altro giocatore di quelli difficili da piazzare, era stata molto morbida e molto generosa, è giuntoli, credo che sia più onesto, siamo uno che vuole arrivare al punto della situazione, pagare quello che c'è da pagare, ma non dover fare dei regali clamorosi. E quindi su questo Chiesa ha capito, speriamo che incominci a capire, che l'area di Torino non è molto benefica nei suoi confronti, soprattutto se vuole tirare dritto. Probabilmente con Paratici avrebbe avuto, l'avrebbe vinta lui. Con Giuntoli credo che faccia molta più fatica, ma io credo che a un certo punto, voglio dire, adesso non voglio fare i conti in tasca a Chiesa, ma se devi stare a Torino, un anno che non ti vuole nessuno, che ti mettono ai margini, che ti rompono le balle, che ti fanno allenare con la next gen, o con gli esuberi quelli che rimarranno, perché poi abbiamo visto che pian piano stanno andando via tutti, in un modo nell'altro, perché non credo che McKennie, Arthur, Rugani e De Sciglio rimarranno comunque alla Juventus, credo che in qualche modo verranno sistemati, anche a fine contratto. Non credo che ci sia interesse per il giocatore Federico di rimanere a Torino contro, per far dispetto ai Santi, insomma, io credo che a un certo punto dovrebbe accontentarsi, cercare una sistemazione, anche se vuole una sistemazione ponte, che possa fare contento lui, che gli possa permettere di giocare, e di far vedere quello che vale, anche perché se sta fermo un anno, e si dovrà proporre, non so, all'Inter, che pare sia quella, la squadra colpevole di aver sobillato a Chiesa di arrivare a parametro zero, beh, insomma, se dovesse andare all'Inter dopo un anno che non gioca, non credo che l'Inter poi magari possa replicare quello che è l'offerta che gli ha fatto tuttora, anche perché un conto è avere un giocatore che gioca, è un altro conto è avere un giocatore che ha fatto due anni, un po' così, ha fatto un europeo che è stato quasi in colore, un anno dove non gioca, quando lo riprendi non puoi certamente offrire i 7-8 milioni, in che base glieli dai 7-8 milioni, perché è simpatico, perché si chiama Chiesa, assolutamente no. Vedremo, vedremo, siamo in attesa, probabilmente da un momento all'altro potrebbe succedere il finimondo, perché se si dovesse sbloccare una situazione da una parte, magari si sblocca anche dall'altra, perché comunque gli incastri e le situazioni bloccate ce ne sono, non sono nella Juventus, c'è nel Milan, nel Napoli, nell'Inter, nell'Inter un po' meno, perché l'Inter più che altro c'è lì sopra, perché come Rosa è abbastanza organizzata, la Roma, il Napoli, il Milan hanno delle situazioni da sbloccare, se dovessero sbloccare, magari cominciano a partire i vari trasferimenti, magari si sblocca anche le situazioni bloccate nella Juventus. Vediamo, comunque ci mancano ancora due settimane, fra l'altro lunedì si comincia il campionato per la Juventus, che giocherà contro il Como, vediamo, tanto siamo qui in attesa, vediamo passo dopo passo quello che succede. Per ora vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, che rimane sempre una cosa buona e giusta, e poi completamente gratuito, e perché no, fate un bel commento che merita sempre di essere letto. Vi saluto, buona giornata, ciao a tutti.